Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è il Mike 94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2016 con il nostro mitico Wigan e oggi andremo a vedere le partite con Chelsea e Liverpool So che avevo detto che non saltavo nessuna partita, però ragazzi essendo due partite molto ostiche e importanti Preferisco dare un po' più di spazio a queste due, soprattutto questa qui con Chelsea Che diciamo da un lato ci tengo ad andare oltre in Capital World Cup Dall'altra so che ovviamente il Chelsea è fortissimo, quindi vedremo un po' Quindi col WBA ve lo salto e niente ragazzi, ovviamente avendo giocato da poco al Manchester Molti sono stanchi, alcuni sono fuori forma perché o non giocano o perché erano infortunati Quindi non sarà affatto facile questa partita, speriamo in un turnover da parte del Chelsea Anche se comunque anche il turnover ci potrebbe asfaltare Detto questo comunque gioca sempre in porta Grimaldo, Gonzales, Spears, Zap, Bakayoko, Rabiot, Hughes, Singraven, Lemar, Davis Diciamo pochi falegnami al centrocampo, oggi solo Bakayoko Però insomma Allan era un po' stanco Case, insomma volevo dare un po' più di spazio a Rabiot, no vabbè raga Non rischio, metto Case giusto per, e niente, Hughes invece non è proprio il massimo Diciamo sta un po' scendendo le caratteristiche, però vabbè sti cazzi insomma Comunque secondo me è un buon centrocampista, poi ovvio se ci arriva una buona offerta Nessuno ci esclude una sua cessione Speriamo bene, ripeto, non sarà una partita affatto facile Abboh ci danno favoriti, ma mi sembra un po' assurdo Abboh ma più che altro per un po' di turnover Comunque, ecco appunto, non fanno per niente Turnover Cercurtois, Telles, Gimenez, Cahil, Vidal, Ramirez, Hazard, Pasalic, Van Ginkel, Pedro, Diego Costa Sembra un po' una scaletta questa E insomma non è che sia proprio un grande, un gran turnover Però vabbè, insomma noi faremo il nostro meglio Stavo vedendo un attimo Yamat per mia curiosità E niente, insomma, è una partita veramente, veramente ostica Dura e cerchiamo però di impressionare i nostri tifosi Siamo in casa, siamo, secondo Sky, i favoriti Mi sembra strano, considerando comunque il numero anche di turnover Gioca Bomber Davis lì davanti Le Fondre non è molto in condizione Per ragazzi, sincero, si ride e si scherza Ovviamente io dico sempre che Le Fondre è il nostro talismano Ma io non escludo una successione a gennaio per un attaccante più forte Ovviamente nel caso non ci rimanete male Ma è ovviamente normale Addirittura adesso ha solo una stella e mezzo Peggio di Davis Però, secondo me il suo lo ha fatto Cioè, quando è stato chiamato in causa Comunque ha giocato bene Intanto il Chelsea Che palle, ragazzi Sti gol così al 45esimo e 30 secondi Mi fanno proprio rosicare In quanto, cioè, non potevamo andare in panchina Cioè, a riposo sullo 0-0 Però mi danno modi Moni Do Ebbè Motivo per lamentarmi con i giocatori Non mi mi dico la parola Detto molto sinceramente Comunque Speriamo in un secondo tempo migliore Anche se la vedo molto dura A questo punto proviamo a giocare sullo standard E vediamo un po' È un peccato ovviamente Ma Non è facile, ragazzi Zappacosta Passa a Bakayoko C'è ancora Zapp Zapp per Yuse Yuse per Bakayoko Bakayoko la passa a Singraven C'è Grimaldo Che grandissimo Che grandissimo Veramente Mi piace un sacco Questo terzino sinistro Che purtroppo Difficilmente Riusciremo a riscattare Però Un giocatore molto molto importante Lo sta dimostrando E Diciamo che La vedo dura A riscattarlo Forse potremmo provare a Riprenderlo in prestito Ma non so Dovevo mettere forse contropiede Ma in standard Siamo riusciti a fare il gol Quindi Vediamo un po' Ovvio che ora il Chelsea Si cerca subito il 2 a 1 Però Noi Mettiamocela tutta Vi da Alec appunto Porca miseria raga Ah Zapp Minchia Zappacosta sta giocando Con una chiavica Veramente sta giocando male Zappacosta Pedro Jason Pierce di cuore Perché? Boh Addirittura Yseri Giallo Ma Mi sa che qua Andiamo sul 3 a 1 Minchia Dalla Dalla falsa speranza Di un pareggio Al 3 a 1 Eh si Per proprio immobile Ma Zappacosta Porca miseria Qua mi sa che c'è da Reinventare un po' Il tutto Forse dare un po' più di spazio A Victor Alvarez Il problema è che sia Grimaldo Che Victor Alvarez Sono Mancini Mamma mia raga Come stiamo giocando male Le mare pure stanco A questo punto Facciamolo riposare C'è Suso Avrei dovuto Vabbè Insomma Zappacosta Che cacchio sta succedendo Che poi Il bello fa le stronzate Però poi I voti sono sempre alti Io questo Non capisco Quindi poi Essendo i voti alti Non mi danno manco Giustificazione Per non farlo giocare Quindi poi Si andrebbe pure a lamentare Quindi è proprio Boh Un controsenso Però in fase difensiva Zappacosta Fa più errori Che cose positive E questo mi spiace tanto Perché Io di Zappacosta Ho un buon ricordo Lo Spezia Faceva a mostro Entrambe le fasi Sia quella difensiva Che quella offensiva Minchia qua Quadrato sbaglia di poco Noi stiamo giocando Veramente male Vedete Insomma Nessuno può giocare Sulla destra Questo C'è martella Ma Di certo Non posso preferire Martella A Zappacosta Perché martella Diciamo un po' Un paio di spanne sotto A Zappacosta Sulla carta Ovviamente Poi Se nel gioco Insomma Se nelle partite Riesce a giocarne bene Tanto di guadagnato Suso Si fa pure male Insomma Una partita Che è meglio Che finisce subito Pedro Telles Perché Telles Può giocare Anche in Italia Porca miseria Che terzino Sinistro Mi spiace molto Per Zappacosta Sincero ragazzi Perché poi Sulla carta Non è scarso Vedete voi stessi Però Sta giocando Male Medi ha avuto 7.32 Però Voi stesso Lo state notando Che Non dà Proprio il massimo Il problema è che Sia Grimaldo Che Alvarez Non possono giocare A destra Allora O giochiamo Con due terzini Sinistri Ma non ha molto senso Obbio Semmai Nella prossima Ne con Liverpool Farò giocare Martella Non lo so Ci vediamo Fra pochissimo Ragazzi In questi pochi giorni Fra la partita Sconfitta Col Chelsea E La partita Che andremo a vedere Ora Con Liverpool Ci sono un bel po' Di novità Ecco perché Meno male Non vi ho fatto vedere La partita col VBA Perché c'è Un po' Da parlare In primis Abbiamo vinto 2-0 Gol di Davis Che si scatena Quando è off screen E poi il gol di Lemar Sul rigore In primis Raga E' arrivato il rinnovo Rinnovo di contratto Che comunque Devo dire la verità Mi fa piacere E per la prima volta Non ho abbassato Al minimo Lo stipendio Mi son voluto Levare lo sfizio E arrivare Al milione e mezzo Di ingaggio Volevo vedere Più che altro Quanto Fino a quanto Ci Pagava Questo Wigan E comunque Un bel milioncino E mezzo Fino al 2020 Insomma Schifo non fa Magari Fossero veri Magari Quando ho rinnovato Il contratto La società Mi ha fatto notare Una cosa Raga Fantastica Budget Trasferimenti Avevamo 60 milioni Con le cessioni fatte Siamo arrivati A 77 milioni Raga E' una cosa Assurda E devo dire Che è anche Fattibile Come cosa In quanto Alcuni ragazzi Che hanno fatto La carriera Con Wigan Mi hanno detto Che al terzo anno Addirittura davano Più di 100 milioni Quindi noi siamo stati Pure sfigati Monte in gaggio Invece era basso Era di 38 milioni E io Prima di firmare Il contratto Ho detto O me l'ho aumentata Bestia Oppure me ne vado Per fortuna Raga Hanno accettato Quindi abbiamo 46 milioni Budget Stipendi E 77 milioni Per i trasferimenti Raga Veramente ci possiamo Divertire a gennaio Quindi Proprio per questo Preferisco farlo Dopo l'esame Così da Veramente Spendere questi soldi Nel modo migliore Veramente Raga Possiamo fare cose Molto molto buone E Comunque Oltre questo Ragazzi Che cosa è successo Che Martella Si è continuato a lamentare Per il fatto Che non gioca Martella Oramai E' Andato Insomma Non è scasso Noi ce lo portiamo Dalla championship Ed è un giocatore Molto molto interessante Però Non può pretendere Di giocare titolare Soprattutto A noi ci serve Un giocatore Come terzino destro Lui Stava imparando A farlo Però Tenere un giocatore Scontento In rosa Mi scocciava Allora Giusto così Sapete Quelle cose Che si fanno Per sfizio Ho detto Proviamo a mettere In vendita Emiliano Martinez Martella E del Cadurri Martinez Che cosa è successo Che nessuno L'ha voluto Quando l'ho messo In vendita Il giorno dopo C'era scritto Che lui voleva Rimanere al Wigan E che quindi Non se ne voleva andare Sincero Martinez È un portiere Anche se Diminuito il valore Non capisco il perché Però comunque Devo essere sincero A me Martinez Come vice Non dispiace Non prende tanto Quindi Sono abbastanza contento E comunque Vi stavo dicendo Che Martella Se ne voleva andare Quindi l'ho messo Sul mercato Prima C'era l'offerta Di Cagliari Cesena E Sampdoria E Aveva accettato Ovviamente Quello col Cesena Però Lui ha rifiutato Il contratto E anche perché Nel frammento E' arrivata L'offerta Della Fiorentina Di 2 milioni e 4 E quindi Ho accettato quella La Fiorentina Che a quanto pare Guarda molto Il calcio inglese In quanto Ha comprato Anche il Cadurri Alla modica Cifra Di 16 milioni Perché 16 milioni Perché il Cadurri Era Diciamo La cifra minima Per recessione Era di 16 milioni Quindi La Fiorentina Ce le ha offerte Non capisco Perché Perché Ma comunque Sti cazzi Prendetevelo Anche perché Il Cadurri Pure lui L'avevo messo in vendita In quanto Anche lui Era Diciamo Scontento Come potete ben vedere L'ho messo in vendita Poi l'avevo tolto Perché Non mi arrivava Un'offerta L'ho messo in vendita L'ho messo in vendita Meglio Non rischiare Di farlo ancora più infelice Poi Prima hanno fatto L'offerta per Martello E poi per il Cadurri E devo dire La verità Sono molto molto felice Abbiamo piazzato Due giocatori A comunque 18 milioni Quasi e mezzo Ora ne abbiamo 77 Quindi credo Che con 77 milioni Un terzino destro E un centrocampista centrale Bene o male Ce lo riusciamo a comprare Quindi devo dire Sono molto molto contento Di queste cessioni A proposito Anche i mondiali Ecco Per questo C'era un sacco di novità I mondiali Diciamo Siamo stati un po' Sfigati In quanto Vorrei acchiapparlo Partite A Ecco qua Diciamo che Nel mondiale Siamo stati un po' Sfortunati Che abbiamo acchiappato L'Algeria E tanto quanto Si può fare Poi Portogallo E Spagna Quindi veramente Ostico Questo mondiale Dovrebbe Potremmo provare A fare tre punti Con l'Algeria E un punticino Risicato Col Portogallo E sperare Insomma E' molto difficile E' molto difficile E vedremo un po' Poi come amichevoli Ho scelto la prima Un po' più ostica Con la costa d'Avorio Poi due semplici Con Cuba E Maldive Quindi Veramente molto molto easy Era giusto per Quindi questo ragazzi Non è affatto Facile Come Mondiale E abbiamo fatto Secondo me Buone gestioni Fatemi sapere Se siete Concordi Vittor Alvarez Vuole la possibilità Di giocare E forse forse Io ora ce lo metto Detto questo Andiamo a bomba Con Liverpool Sperando di fare Una buona prestazione Anche se Pure qui Non la vedo Molto facile Siamo al quarto posto Con 27 punti Però vabbè Insomma Ora Appunto Ci aspetta Il Liverpool Che è molto Molto ostico Mignolè Robertson Gomez Illori Klein Kostic Oh Kostic Raga Ve lo ricordate Kostic Grandissimo Allen Henderson Ibb Ibb Insomma Markovic E Mbolo Porca miseria Vediamo un po' Quanto è cresciuto E appunto Un mostro Speriamo di fare una buona partita Ripeto Non sarà affatto facile Noi ce ne metteremo tutta Come sempre Dai E Wigan Speriamo bene Io Fatemi sapere Ovviamente Anche nei commenti Che ne pensate Di queste due Cessioni Non so Insomma Buono così Alla fine Sono un sacco Di milioni Che ci vengono In tasca Nella saccoccia Di per sé Ragazzi Wigan aveva cambiato Proprietà E l'aveva cambiata Proprio a luglio Quindi I soldi Della nuova proprietà Non c'erano ancora arrivati Che ci sono arrivati Mi sa Verso Ottobre Perché io non me ne sono proprio accorto Cioè Stesso la dirigenza Mi ha fatto controllare E mi ha detto Guarda Tu c'hai 49 milioni Erano tipo Di budget No 50 E la stessa cosa E E quindi Niente Tanta roba Singraven È infortunato Io l'ho messo Perché Suso Si è fatto male Mi trovo Glucross al centro Peccato Quindi questo Insomma Ripeto Sono felice Di questo Di queste cessioni Sono felice Che Martinez Finalmente Ha deciso Di rimanere Però All'anno 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 No Peccato Intanto Suso L'ho portato Mi sono Mi sono Un attimo Gasato Col mercato Mi sono gasato Con gli Stati Uniti E mi sono dimenticato Di mettere Luis Alberto Mea colpa Però Singraven A questo punto Stringi Un po' I dentuzzi Ha fatto pure Molti errori Stai giocando Pure una chiavica Siamo i favoriti Non dedudiamo Anche se Comunque Contro Liverpool Anche se A quanto pare Stiamo giocando Relativamente Bene Singraven Sta giocando Diciamo Non bene Anche infortunato Semmai a breve Ci buttiamo Nella mischia Suso E vediamo Cosa riesce A combinare Con questo Liverpool Che Comunque Sta tenendo Il risultato In teoria Sulla carta È anche un po' Più forte O meglio Molto più Forte Di noi Però Vediamo un po' Come si mette Questo secondo tempo Marco Vic Embolo Bella la palla Per Haib Ibe Come volete Chiamarlo Zappacosta Forse fa una cosa Buona Ma c'è Allen E sepe Qua ci va Moscissimo No Qua È un peccato Veramente Perché il primo tempo Abbiamo giocato bene E poi Uno schifo A questo punto Buttiamo Nella mischia Suso Che ha un morale Orribile Non so perché Sincera ragazzi Non so il perché Vedete Se è successo qualcosa Ok per l'allenamento Vabbè Se mai Leviamo Insomma Senza Problemi Per l'allenamento Complessivo Perché era Forma fisica Forma fisica alta In questa settimana Perché appunto Volevo far recuperare A tutti la forma fisica Ed infatti Ha funzionato Perché Molti stavano messi Molto meglio Fallo di Embolo Che in verità Aveva pure segnato Ragazzi Cerchiamo però Di fare qualcosa Possibilmente Proviamo a mettere Lui Il talismano E Buttiamo una mischia Anche Yuz Che a questo punto Con la cessione Di Alcadurri Diventa La prima alternativa Di Yuz No scusate Di Rabiu Alcadurri a questo punto Fino a gennaio Anche se Ora mai è prossimo Gennaio Lo userò Veramente pochissimo Non tanto per paura Che si infortuni o meno Perché tanto Chi se ne frega Ora mai è stato ceduto Però Insomma Preferisco usare Giocatori nostri E Gonzales viene espulso Peccato Stavartita Si era messa bene Quasi ci stava stretto Il pareggio Adesso invece Siamo in difficoltà E stiamo anche perdendo 1-0 Widmer Addirittura Liverpool La cross al centro Per Bente Che Sepe Sepe ha sbagliato Alla grande Ha sbagliato proprio tanto C'è andato muscio E Non so Di per sé Un po' tutti i portieri Sono croce Delizia Alcune volte Alcune volte Fanno cappellate Abnormi Altre Gioca Bene Idem Con patate Per sé Vabbè ragazzi Arriva purtroppo Anche una sconfitta Con Liverpool Che ci sta Ovvio Si era Ripeto Avrei preferito Un pareggio Addirittura Una vittoria Parliamo con la squadra Ma Insomma ragazzi Un po' Brutto come finale Però vabbè Siamo comunque Quinti A due punti Dal Chelsea Porca miseria E A cinque punti Dal Lechester Dobbiamo sperare Ragazzi Speriamo bene Speriamo che le prossime Badano meglio E Niente Sto proprio vedendo Le prossime Che saranno con Tottenham Crystal Palace Che sicuramente Andremo a vedere Poi West Ham Stoke City Nelle 5 Cup Non vi ho detto Abbiamo acchiappato il Cambridge Quindi bene o male Siamo stati fortunati E Niente ragazzi Somma Speriamo di fare Sicuramente meglio In campionato Nei prossimi episodi Perché Per il momento Quello che vi ho fatto vedere Sono Due sconfitte Con Manchester E Liverpool Detto questo Io spero che il video Vi sia piaciuto E Come sempre Un saluto a Mike44 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi